Noi andiamo avanti, oggi non è una protesta finale, noi vogliamo con oggi aprire una fase nuova in questo paese perché il problema è creare lavoro, il problema è riconoscere che chi lavora oggi è quello che sostiene questo paese. La violenza bisogna sempre vedere perché arriva da tutte e due le parti, non solo da una parte unica come siamo incriminati, perché anche da parte delle forze dell'ordine c'è violenza e prima della violenza delle forze dell'ordine c'è la violenza dello Stato che impone una cosa su un territorio che non la vuole da 23 anni.